Come al solito io parto con una lab machine, vecchio stampo, vecchio stile, senza contrapesi, carrucole o roba che ti fa contento ma non ti risuncazza. Quelli sono 100 kg e sono 100 kg. Cerco di prendere la più larga possibile, non con le barrette che vendono oggi, che sono la metà della metà, ma come quella che sono veramente lunghe. Cerco di prendere con un grip che riesce a farmi non chiudere completamente la mano in modo di diventare sempre più forte, ma questo l'ho detto un sacco di volte. Però lì ci smeno molte volte sul lungo tempo qualche ripetizione perché molli con l'avambraccio, non riesci a uccinare, di conseguenza ne fai di meno perché la forza parte prima dall'avambraccio, l'avambraccio è il primo che ti molli. Comunque queste sono le quattro serie che io comincio a fare pesanti a sei o otto. Adesso non ci sono spotter o roba del genere, già c'è il maestro qua che si sta rompendo le palle, però vi faccio vedere come intanto arrivi il cedimento per i fatti tuoi e non a due, tutte 24 le serie. Peso peso. Peso peso. Peso peso. Vai. Ok. Vai ai. Grazie a tutti. Stoppo, vado avanti. Oggi sono usciti di più. Vabbè, è già già stoppato. Stoppo? Allora, pensavo di farne sei. Invece ne sono partiti di più. Ma la forza oggi è diversa da giorno a giorno. Hai dormito di più, hai conosciuto una bella ragazza. Che cazzo ne so. Funziona così. Per cui adesso teniamo sempre lo stesso peso. Comunque. Ma anche se poi sono state sei tirate a massimo. Cercavamo di tenere altre sei per poi farci aiutare. Non solo se arriva a cedimento nostro. Si cerca di arrivare a cedimento sempre con uno spot. E poi adesso teniamo sempre questo. La rendo più dura ancora con questo. Quando non ce la faccio più c'è il nostro gigante. E poi adesso teniamo sempre con il nostro gigante. Il gigante è sempre pronto, facciamo la terza, la terza incedimento, è passato neanche, neanche un minuto. Poi faremo la quarta, poi magari mollerò un attimo questi, mollerò ancora per le quattro serie perché sono gli avambracci, stanno veramente esplodenti e la forza ormai l'abbiamo fatta. Facciamo la terza e la quarta qui, poi cominciamo a fare potere su per sé, ma comunque. Largo, larghissimo, permessa mortale per le mani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, zio. Quarta serie. Andiamo? Questa è la quinta perché si caga sotto per la seconda. Non uso più questi perché non ho detto più chiudere gli avambracci. cosa facciamo inverso. Questa è la quinta. 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 perché mi è schizzato praticamente il sangue dal naso, non mi sembrava bello per vedere. Adesso siamo ancora, ormai i pesi non riesco a toccarli perché le braccia sono piene, diamo i bracci sono pieni, per cui ovviamente si calano i pesi. Facciamo altre 4-5 qui in pulle. Allora la forza è quella che ti chiamiamo, stirare tutto. Sì, 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 sì. Sì, va benissimo. Fatto?